Musica Domani si ritorna in campo tra voci di mercato, sosta forzata Che sub ritroviamo dopo la partita con la Triestina? Il mercato a me non mi interessa, sento quotidianamente, leggo tante cose Per me domani è una partita non importante, non fondamentale, ma determinante Quindi tutte le attenzioni mie, altrimenti sarò ripetitivo Non voglio rimembrare cose che già ho detto in passato Noi domani affrontiamo una squadra importante, tosta, cattiva, compatta Perché poi a parlare nel calcio sono i numeri, le altre cose Il risultato può essere frutto anche dell'improvvisazione Ma i risultati sono frutti di organizzazione Questa squadra ha pareggiato a Padova, ha pareggiato a Reggio Emilia senza prendere gol Ha vinto a Feralpi Salò, ultimamente ha dato tre gol al Renate Quindi poi tutto il resto sono chiacchiere e aria da bar Logicamente sento le loro dichiarazioni, mi fanno piacere Che verranno qui per vincere, a vincere, giocheranno a viso aperto Me lo auguro, così sarà anche una bella partita Loro di solito sono una squadra che io ho studiato Una squadra molto compatta, non offrono profondità Due linee molto basse, difendono negli ultimi 30 metri Magari verranno qui, come ho letto, a fare partita e tentare di vincere Quindi vuol dire che sarà una bella partita Noi giocheremo sempre da sampo, come abbiamo sempre fatto in casa e fuori casa E anche nelle amichevoli Noi cercheremo di imporre il nostro gioco Cercheremo di tenerli quanto più bassi e possibili Ma non solo alla fermana Quello che abbiamo sempre fatto su qualsiasi campo Tenendo sempre una squadra equilibrata È normale, chi pensa che domani andremo all'arma bianca Forse non conosce la filosofia di Capuano Noi giochiamo contro una squadra che è una squadra molto difficile da affrontare Perché lo dicono i numeri Sicuramente noi domani dobbiamo vincere Non l'ho mai detto prima di una partita Lo dico adesso, noi domani dobbiamo vincere Vincere domani significherebbe Chiudere l'anno in bellezza Abbiamo nel nostro girone la serie più alta in questo momento Nessuna squadra nelle ultime sei giornate ha fatto meglio di noi E quindi è anche un motivo d'orgoglio Vogliamo fare il settimo risultato utile consecutivo Vogliamo vincere per migliorare la nostra classifica Per renderla ancora più bella E per poi andare in questa pausa lunga Con entusiasmo notevolissimo Poi a prescindere quelle che saranno le argomentazioni tattiche Su questo le assicuro che noi siamo maniaci della tattica Quindi conosciamo la Fermana benissimo E abbiamo lavorato e speriamo di averci visto giusto Dove eventualmente possiamo avere dei vandaggi Però bisogna anche stare attenti Perché loro hanno dei giocatori molto rapidi sulle fasce Ripartono bene, hanno Lupoli e Sanzovini Che sono due ottimi giocatori Quindi non è che noi ci occupiamo solo ed esclusivamente Della fase di possesso Dobbiamo essere bravi sulle preventive Sulle transizioni Perché loro hanno giocatori che possono far male In qualsiasi momento della gara Lei si è sbilanciato e ha detto Domani dobbiamo vincere C'è la sensazione che questa sia una gara diversa Dalle altre tre? Senza La prova del nove? No, la prova del nove Altrimenti io Guardi, io sono una persona seria e coerente Non cambio mai idea Io anch'io leggo la Samb Tutti dicono che deve andare in serie B La Samb anche domani giocherà con sei under titolari Ma di che stiamo parlando? Cioè la Samb sta facendo qualcosa di meraviglioso Posso dire una cosa Con l'onestà che mi contraddistingue Ma questo è merito solo della società Se questa squadra Se stesse facendo Godesto campionato in un'altra piazza Dico a Fano Dico a San D'Arcangelo Si parlava del miracolo italiano A San Benedetto È perché il blasone della piazza E a San Benedetto Chiunque gioca devi far bene Quindi voglio dire È una partita che noi vogliamo vincere Perché ci tiene il popolo Vogliamo chiudere l'anno bene Vogliamo dare una grande soddisfazione alla proprietà E soprattutto vogliamo raccogliere i sacrifici illimitati che facciamo Perché noi non conosciamo feste Non conosciamo Natale Non conosciamo Pasqua Non conosciamo l'Epifania Noi lavoriamo come giusto che sia Il nostro lavoro è quello di produrre risultato Sia in termini di produzione per la proprietà Ma soprattutto in termini di entusiasmo E di sentimento per il popolo Di cui rappresentiamo e ne andiamo fieri Quindi è vero È una partita particolare L'ho studiata L'ho studiata Guardi io sono troppo vecchio Per farmi portare nelle polemiche Oppure per farmi condizionare E sono anche molto razionale Di che se ne dica Su qualche concetto Mi sembra che mi state imparando a conoscere A differenza anche degli altri Che fanno dichiarazioni trionfalistiche Prima di produrre eventuale gioco O di vincere E io sarò il primo a complimentarmi con loro Invece io dico che è una partita difficilissima Che vogliamo vincere Tendando avendo la consapevolezza di giocare Con un'ottima squadra allenata da un grande allenatore Perché poi lo dicono i numeri E quindi all'andata Io non mi faccio condizionare totalmente Di quello che è accaduto Io devo essere bravo a tenere la squadra Lontano da questo entusiasmo Che ci può essere in questo momento E con grande tranquillità Altre cose a me non mi interessano So che all'andata è successo qualcosa Magari qualcuno è stato sbeffeggiato Qualcuno è stato offeso Ma queste sono cose che a me non interessano Io so che all'andata La mia squadra è stata battuta due volte Anche se non ero io l'allenatore Ma è la mia squadra E quindi vuol dire che per essere battuti due volte Loro sono un'ottima squadra Cercheremo alla terza di vincere noi Ma sai, i derby hanno sempre un valore particolare I derby sono sempre fuori pronostico Perché vengono determinati da episodi Di aspetti magari mentali Noi dobbiamo essere bravi A stare tranquilli Sento parlare di tante assenze dalla fermana Nessuno parla delle mie assenze Perché io non ho mai parlato E non mi sono mai chiuso In un alibi pre-gara Sento che loro debbano inventare la difesa Noi domani giocheremo Su tre difensori Che fino adesso hanno sempre giocato Due non giocano Quindi giocherò col 30% di una difesa 33% E quindi però io non parlo mai A differenza degli altri Quindi ognuno ha i problemi di casa sua E so di affrontare una squadra ottima Una squadra compatta Una squadra cattiva Agonisticamente Una squadra difficile che prende gol Noi penso che La stiamo preparando bene Speriamo che domani Quando meno Il terreno di gioco Non faccia schifo Come nelle ultime partite Perché quando devi fare la partita Nessuno dice che noi Le ultime due partite Abbiamo giocato su un campo infame Contro Pordenone e Triestina E noi siamo una squadra comunque Con giocatori tecnici Soprattutto sul primo campo loro Se preferite sul terzo campo nostro Ed è normale che quando il campo Non ti permette di giocare Noi perdiamo la qualità notevole Dei nostri esterni Quindi mi auguro che domani Non sia un altro campo infame Perché a quel punto Abbandaggia soltanto loro Questa sosta Potrebbe aver Come dire Guastato un po' Quella continuità Di prestazioni Certo Ebbè è una squadra che Una squadra che non perde da sei partite Quando si ritorna in campo È sempre un incognito È normale La sosta A noi non ci ha avvantaggiato Perché è normale Quando fai una serie di risultati Così importanti Sei partita senza perdere Quindi hai una fase di autostima notevole Più giochi E meglio è Però Penso che Abbiamo lavorato anche il giorno di Natale Mentre gli altri Mangiavano il panettone E giocavano la tombola Quindi Voglio dire che le mie squadre Questi problemi Non li dovrebbero avere Grazie